Simone Santoni, tecnico della nuova Tor 3 Teste, dopo questa vittoria 2-0 contro l'Alba Longa. Mister, avete interpretato bene la partita dall'inizio, alla fine secondo me è questa la prova di maturità che si aspettava? Sì, esattamente, anche perché dopo 15 giorni che non scendevamo in campo, riprendere, come ho già detto, con uno scontro diretto non era semplicemente facile, perché comunque sia di mancare, abbiamo avuto un grandissimo approccio, abbiamo trovato la giusta strada, una grandissima mentalità, senza mai soffrire, perché oggi non c'è stato mai un attimo dove abbiamo sofferto, e secondo me pian piano stiamo ottenendo quello che abbiamo seminato. Ecco, anche dal punto di vista offensivo avete fatto due gol ad una squadra che praticamente in sette partite ne aveva subito solo uno. Cosa significa poter contare su Condello, Lara Marconi, ma avere tante soluzioni? Beh, ad oggi sono tutti due giocatori importanti, anche i ragazzi che sono fuori, comunque sia quando non vengono chiamati in causa, hanno il loro contributo. Abbiamo trovato una chiave, che è quella a spirito di sacrificio, tutti quanti collaborazioni tra le parti, e questo mi fa molto piacere perché i ragazzi hanno trovato la loro dimensione. Mister, questo è un punto di partenza, se vogliamo, perché adesso il campionato inizia ad entrare nel vivo della stagione, domenica c'è il Carso, oggi pomeriggio, Carso-Tordiquinto, si aspetta qualcosa? Assolutamente niente, anche perché noi mercoledì abbiamo recupero col Ponte di Nona, partita assolutamente non facile, squadra che sta facendo molto molto bene, quindi dobbiamo pensare di partita in partita, mercoledì, domenica, penseremo poi da giovedì, venerdì, quello che sarà, penseremo al Carso. Noi dobbiamo fare tutte le partite importanti, poi vedremo alla fine quale sarà l'obiettivo raggiunto.